Quanti di voi hanno una lista scritta dei propri scopi personali? Scritta! 10, 12. Per cosa vivo io? Qual è il mio scopo, i miei scopi principali della mia vita? Cosa faccio e mentre faccio quella cosa mi sento fortemente motivato, fortemente attratto, fortemente quasi in estasi? Quali sono? Cosa vogliamo lasciare in questo mondo? E ricordate che sono i vostri scopi. Qua non bisogna fare tante cose di carattere mondiale, poche cose di carattere personale che rendono meravigliosa la vostra vita. Qua parliamo della vostra vita, qua non c'è nessuno che ci misura. Uno dei miei scopi è quello dei bambini che non ho avuto. Io voglio cambiare l'esistenza dei bambini attraverso la mia onlus mariana e dare educazione almeno almeno a 100.000 bambini prima di passare all'altro mondo. Perché è giusto che sia così.